Mister, è arrivata la prima vittoria alla guida del Sambuceto per lei, oggi era importante però soprattutto capire come era messa la squadra in vista dell'inizio del campionato, quali sono le sensazioni che hai ricevuto oggi? Beh, innanzitutto la prima vittoria ci aiuta a livello morale a darci delle certezze in più, abbiamo lavorato parecchio in queste quattro settimane, devo dire che oggi ho avuto delle risposte positive, altre non dico negative ma abbiamo delle cose su cui lavorare, come è giusto che sia, però devo dire complimenti ai ragazzi perché hanno disputato una gara molto dirigente, una gara di compattezza, di spirito di squadra e questo volevo e questa risposta mi hanno dato, quindi su questo sono molto contento. Mister, è arrivata una sconfitta in questa prima partita stagionale, al di là del risultato come l'è parsa la squadra? Sicuramente siamo pesanti, non siamo ancora brillanti, abbiamo lavorato tanto, certo fare la coppa e tagli il 21 per noi, non siamo ancora calcio d'estate, sicuramente non abbiamo fatto un'ottima prestazione, mancavano tre o quattro persone importanti che stiamo aspettando per il tesseramento, una reale era squalificata, tutti i giocatori hanno giocato un po' fuori ruolo, dovuto adattare una squadra giovane, ma che comunque deve migliorare soprattutto a livello caratteriale perché abbiamo impattato la partita in modo troppo, sembrava un amichevole per noi, invece per loro è iniziata una gara vera. Grazie.